Musica Cari amici e cari amiche di Angoli, ben ritrovati, una buona serata a tutti voi. Questa sera apriremo il nostro appuntamento parlando di edilizia, che cosa è accaduto e che cosa accadrà. Facciamo un punto della situazione con l'ospite in studio e è venuto a trovarci il presidente di Ancecomo, Francesco Molteni. Presidente, benvenuto e grazie. Buonasera, grazie a voi. Voglio partire da un dato recente, torno a qualche mese fa, luglio 2022, quando da una fotografia della situazione di Lessi è parlato di un'edilizia al più 19% in Lombardia, motore trainante come risultato del 2021, i primi mesi del 2022, nonostante qualche difficoltà, immagino per esempio il super bonus comunque, in una buona direzione, ma oggi il qui e ora com'è? Il qui e ora è complicato, è molto complicato perché abbiamo davanti parecchi punti di domanda legati a quello che sta succedendo nel paese, legati al caro energia, legato al caro materiale. Innegabilmente veniamo da due anni molto buoni, dove questi dati sono dati della Lombardia, ma sono anche i dati della nostra provincia, dove sono aumentate significativamente la massa salaria e le ore lavorate, e dove dire che il comparto è stato un comparto che è stato in grado di reagire in poco tempo a una domanda che è nata in attesa nelle dimensioni e nelle quantità rispetto a quello subito dopo la pandemia. Ci siamo riorganizzati perché il settore diventava fondamentale per lo sviluppo di questi percorsi. Del resto lo è sempre comunque, è sempre trainante in tutta l'economia. Esatto, perché poi i dati veri sono che del 6% della crescita del PIL del 2021, due punti sono attribuibili al nostro comparto. E quindi è un settore che ha contribuito non solo per la crescita del PIL, ma anche perché attraverso gli innumerevoli interventi che sono stati fatti stiamo contribuendo in modo significativo a quella che è la transizione ecologica del nostro paese. Però poniamo l'attenzione su due aspetti. Innanzitutto lei dice bene, comunque le cose negli ultimi due anni hanno funzionato. Questo significa che le aziende comunque potrebbero essere per loro conto abbastanza al riparo e quindi essere in grado di affrontare delle problematiche d'ora in poi, se non altro qualcuna di loro. Mi auguro tutte, ci mancherebbe altro. Quindi questo è il primo aspetto. E il secondo, se le problematiche in qualche maniera degli ultimi tempi collegate al super bonus, ora vista anche una riconferma, sempre con discrezione e disponibilità degli istituti bancari, potrebbe comunque rilanciare la questione, naturalmente con i rincari che conosciamo. Quindi tre punti effettivamente. Allora, il primo, la domanda è complicata. Perché? Perché non possiamo dimenticare che il nostro è un settore che è venuto da 12 anni di crisi, dove in questi anni moltissime aziende si sono trovate ad immettere capitale proprio pur di tenere aperte le attività. E quindi questo momento favorevole per tanti è servito un po' per mettere a posto le ossa. Era un polmone per riprendere. Era un polmone un po' per riprendersi quello che era stato prima. Quello di cui avremmo necessità perché questa ripartenza continui è che questi meccanismi di incentivazione diventino strutturali. Oggi noi continuiamo a vivere di proroghe su proroghe mentre una politica industriale per il settore che contribuisce in modo così significativo alla crescita del PIL italiano e quindi con delle prospettive di durata almeno quinquennale di quelli che sono gli incentivi potrebbe sì innescare una politica industriale nel settore e quindi dare strutturazione alle nostre aziende per il futuro. È vero che immagino non diventino strutturali perché poi dipendono sempre dai fondi a disposizione. E quindi quale potrebbe essere la via perché questa forma strutturale diventi concreta e più duratura nel tempo? Ci sono dei dati che sono abbastanza significativi. Dei meccanismi di ricerca che non sono nostri, che è anche Nomisma, ha fatto l'analisi di quelle che sono le ricadute effettive dei costi dello Stato rispetto ai meccanismi del super bonus. E una volta che gli incentivi sono andati in regime che quindi poi genereranno per gli anni futuri l'aumento del gettito IVA, l'aumento delle tasse da parte delle aziende che alla fine dell'anno si trovano sicuramente con fatturati maggiori rispetto agli anni precedenti. E in più i benefici sociali e ambientali che crea questo tipo di meccanismo porta rispetto a un esborso immediato da parte dello Stato di 40 miliardi a un esborso a regime di 6 miliardi. Questo credo che sia abbastanza significativo perché una politica che non ritiene che investire 6 miliardi del bilancio dello Stato per avere due punti di crescita di PIL sia una politica non corretta. Certo, siamo assolutamente consapevoli che purtroppo ci sono state delle cose che non sarebbero dovute capitare, ci sono dei meccanismi che devono essere rivisti, in questo è un momento di grossa difficoltà perché in realtà lo sblocco della responsabilità solidale non è ancora stato assorbito dal sistema bancario che ancora non è in grado di immettere liquidità e quindi non partono nuovi lavori. Quindi di fatto siamo ancora fermi in attesa. In questo momento siamo ancora in attesa. Certo, se non sbaglio ci sarà anche un momento di confronto forse la prossima settimana e quindi credo sia appunto con l'amministrazione comunale con la quale vorrete andare a comunque costruire un certo tipo di proposta? Se sì, ci anticipa qualche cosa? Sì, noi settimana prossima, giovedì, faremo l'assemblea annuale di Ance. Sarà un'assemblea un po' diversa dalle solite dove non parleremo tanto di temi cari al nostro settore ma parleremo di temi importanti per tutta la società che sono i temi della transizione ecologica e dell'ambiente. In questi percorsi ci sono delle opportunità legate all'Europa che per le città sotto i 100.000 abitanti stabilisce dei percorsi perché queste diventino città sostenibili nel 2030 e durante la nostra assemblea ci faremo appunto raccontare dai membri della Commissione Europea e da un sindaco landese che ha vinto lo scorso anno questo premio come funziona questa opportunità. È un'assemblea di proposte perché credo che il tema della transizione ecologica sia un tema che certamente vede le imprese di costruzione come protagoniste ma sappiamo bene che da soli non possiamo fare niente, non possiamo fare molto se non insieme appunto all'amministrazione e a tutti gli altri attori del territorio. Quindi sono percorsi che devono essere affrontati con un'ottica comune che credo che sia poi quella che tutti noi vogliamo di cercare di avere un ambiente migliore rispetto a quello che abbiamo oggi. Questo è sicuramente un aspetto molto importante, in battuta direi quasi conclusiva, però in questo momento dobbiamo anche fronteggiare i rincari che abbiamo citato in apertura, quindi bollette, quindi materiale che è rincarato molto e quindi c'è anche un disequilibrio tra magari preventivi fatti qualche tempo fa e possibilità poi di concretizzarli. Come se sarà possibile affrontare questo aspetto della questione? Due minuti e ci salutiamo. Allora, il tema è importantissimo perché gli aumenti medi negli ultimi anni sono circa del 35%. Non è tanto un problema di costi di energia per far funzionare i cantieri perché noi non siamo energivori, però si scaricano su di noi l'aumento di costi di tutti i materiali che vengono prodotti con l'energia. È un tema molto delicato soprattutto per l'attuazione del PNRR perché molte delle opere, direi tutte le opere, sono state dimensionate anche dal punto di vista economico un po' di tempo fa. E quindi il tema è un tema che bisogna rivedere, quelli che sono i costi effettivi di queste opere, ma in un momento di mercato così instabile come quello che stiamo vivendo in questo momento, credo che sia indispensabile innescare delle politiche dove negli appalti pubblici sia consentita la revisione dei prezzi. Questo sia per seguire gli aumenti, ma seguire probabilmente anche diminuzioni che magari in futuro ci saranno. Questo darebbe una linea in realtà alle imprese di sapere che possono lavorare contanto di prendere i soldi che gli costa lavorare. Che è la cosa più importante. E all'amministrazione di spendere i soldi giusti rispetto a quello che devono investire. Certo, io ringrazio il Presidente Francesco Molteni per essere stato qui ad Angoli. l'aspetto di Movo naturalmente per continuare a parlare di edilizia e buon lavoro naturalmente. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Ci fermiamo soltanto qualche secondo perché poi c'è un ospite speciale. Rimanete lì. E voglio ricordarvi insieme all'ospite che è collegato con noi un evento davvero molto molto importante. E' con noi, come ho detto, il Professor Maurizio Bossi. Ben ritrovato. Grazie. Grazie a voi. Bentrovata anche a te Dolores. Ciao. Come ho detto agli amici a casa, c'è un evento che è davvero vicinissimo dopo domani venerdì 30 settembre e soprattutto l'argomento è molto molto interessante. Me lo vuoi introdurre Maurizio davvero in due parole? Durante il lockdown, come vi siete trovati? Hanno fatto un'indagine. Le parole sono tre, pensate. Tre parole per definire la nostra sensazione in quei mesi. La prima, paura, e si capisce perfettamente. La seconda, sconcerto. Certo, con tutte le notizie diverse. Ma la terza parola è solitudine. Solitudine comunicativa. Con chi? Con tutti. Ma in particolare con una figura professionale. Quale? Il medico curante. Il tuo medico. Hai parlato col tuo medico? No, non si poteva. Hai comunicato pochissimo. E allora c'è stata veramente una grande epidemia di carenza e di comunicazione. Bisogna fare qualcosa. Oggi ci dobbiamo interrogare su cosa è successo. Perché c'è stato questo dramma anche comunicativo? Sì, certo, nell'ambito del dramma, ovviamente, del Covid, dei morti, per carità. Però anche questo è stato importante. E tu che cosa ne fici, Dolores? Dico che sono d'accordissimo che è un argomento che va affrontato soprattutto per cambiare completamente direzione, ad avere un taglio più diretto, un sostegno molto diretto, perché gli utenti, i cittadini, la popolazione, gli uomini e le donne hanno bisogno di essere ascoltati e di essere sostenuti dal medico di famiglia e ovviamente da chi è preposto ad aiutarli. E voglio anche ricordare che questo convegno dedicato, come ho detto poco fa, sarà venerdì 30 settembre, tra due giorni, e ci sarà la possibilità anche di seguirlo via streaming. Vedete in sovraimpressione i contatti da utilizzare, www.eurocomunicazione.eu oppure anche su Facebook www.facebook.com slash eurocomunicazione. Quindi, Maurizio, che dire, un appuntamento importantissimo con un argomento davvero interessante. Grazie, Maurizio. Sì, per tutti veramente. Ciao. Grazie, grazie, a presto. Grazie anche a voi, rimanete lì, c'è una piccola pausa, poi siamo di nuovo insieme ad Angoli. Grazie.